bella a tutti ragazzi qui a gameslash e come promesso è arrivato lo speciale 20 oggi parleremo di un famoso youtuber che ha fatto successo per il suo senso dell'umorismo io sono gamerun e il nuto youtuber è oh mio tollo e oggi vi mostreremo i suoi momenti più epici intanto mi tolgo la maglia del milan perché ovviamente può fare vabbè dai bella ragazza con un video un po diverso perché ovviamente inizia l'estate sta arrivando l'estate metti qualche canzone estiva e con questa canzone sottofondo sta arrivando l'estate per cui ho detto basta i classici gameplay classici video i classici montaggi i classici spacco bottiglia vorrei concentrarmi un po su delle cose che non ho mai fatto prima qualche commenta di che non ho mai fatto prima mai fatto che intanto ora mi metto a registrare così voi vedete che cazzo vedo io come fa pazzi per cui io posso parlare con 20 30 mila persone io parlo con sta cazzo di obiettivo di merda comunque così questo è quello che vedo io bella merda comunque oggi voglio fare qualche video che non avevo mai fatto prima tutto in un video qualche qualche cosa che non ho mai fatto prima che gli altri non ho fatto che non ho mai fatto ma intanto mi tolgo la maglia del milan perché ovviamente può fare benvenuti a tutti ragazzi nella mia nuova camera guardate tra la mia attrezzatura professionale alla jimba network vabbè vaffanculo facciamolo in botta di sdrogo questo video libri per studiare che in realtà mi servono per tenere la telecamera bocce di belvedere computer dove guarda i pa telefono 16 17 43 16 i big money della part black ops 2 viva 13 l'album di salemone ma più hardcore di tutti l'album di natale caccia un po due pezzi natalizzi che state sarebbe senza natale cazzo guardi coppa altra coppa da ricchi dove verso la vodka libri di scuola altri libri di scuola ora verranno commenti di gente che farà è un mio top cazzo guardi ma ce l'ho anch'io il tuo stesso libro se facciamoci le seguite su la madonna c'è su e la madonna ancora la madonna il mio letto da rumeno vocabolario sono le 16 33 40 oggi faremo una partita con la mia squadra mia squadra del cuore la juventus no non è vero oh my god rossi la mia squadra la mia squadra non è tanto forte però è fottutamente bagata porco in generale per cui se mi piace hitler mi piacerà sicuramente la mia squadra è fottutamente bagata per la mia squadra che si è fottuto Dovrò fare gol solo con il suo Nooo Quanta troia Ma dai che sono il tuo youtuber preferito Lascia Porco Dio il portiere Scusate per la bestia Ma dai basta Cazzo fa questo Facciamogli un fallo Con la difesa avversaria Oh 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 Go E su Buca le mani del portiere Questo uomo è un fenomeno ragazzi Compratevelo Mi porta avanti da solo la sua Poco cielo per nulla E posso Luca Finetto ci chiede Ti sei mai messo due dita in gola Per non andare a scuola? Allora due dita in gola no Però Molte volte facevo finta di essere morto Praticamente stavo sul letto così E mia madre Cercava di buttarmi giù dal letto Io facevo finta di essere morto Per stare a casa a sdrogheggiare ragazzi Che vi deve insegnare tutto io qua Ragazzi ora farò una cosa che ho sempre voluto fare da anni Per cui piazza la musichetta epica Piazza quella specie di zoom Che mi zooma la faccia Perché adesso Devo fare una cosa che ho sempre sognato da anni di fare Che non potrò mai fare Però Oggi sono qua Per festeggiare I miei 70.000 iscritti Faccio finta che ci sono 70.000 iscritti Devo fare una cosa Che ho sempre sognato di fare Con questa musica Se il video ti è piaciuto Ti invitiamo a lasciare un bel mi piace E iscriviti al canale per supportarci E farci arrivare ai 5 iscritti Visto che ne abbiamo me di 3 Quindi bella